Facendo enormi della vostra mica Cosa c'è nella mia borsa? Avevo detto che ve lo facevo Borsa nuova, portafoglio nuovo, tutto nuovo Allora vi faccio vedere tutto quello che Per adesso ho nella borsa Che si divide così Vabbè qua ho il badge del lavoro Vi faccio subito vedere Nella zippetta qua a mezzo Ho cicche Questo dove Metto una penna Perché per finire di provare l'astruccetto Si sa mai perda l'inchiostro, mi macchia la borsa Bisogna pensarle tutte, un piccolo block notice E qua invece Ho questo astuccino Pieno di astuccini di pochettine Preparatevi, dove ho le chiavi di casa Col portachiavi ed unicorno Qua E poi nel primo Comparto qua ho Questa borsa pieghevole Che quando fai le spesine della Conard Ce l'ho sempre dentro Ho questi due, la pochette e il portafoglio Il portafoglio è questo Vi ho detto che era nuovo L'ho preso Dove ho preso tutti i miei banco Ma tutte le mie cose Anche qua è fatto così C'ho altri documenti La patente, insomma Carta d'entità E questo è il portafoglio Poi abbiamo la pochettina Sempre presa lì al globo Dove nel primo Prima cernierina Ho lo specchietto Il burro cacao di Stitch Una cremina piccola per il viso E il mio disinfettante Questo che a mio marito piace tantissimo Rimane l'odore una settimana Rimane su tre giorni Poi zippettina in mezzo Ho lip gloss di Hello Kitty Della collezione di Essence Cremina che mi ha portato dalla Spagna A Sharon per le mani E un profumino Questi ce li ho sempre E poi qua Nell'ultima Ho un pacchettino di salviettine Sempre in borsa E qua siamo a posto Sarà un video lunghissimo Perché comunque adesso non è che C'ho una marea di cose Poi qua c'è un'altra cernierina E qui ho dentro solo Le chiavi della casa di mia mamma Poi Altra pochettina Tacchete Che contiene Aspettate che vi faccio vedere I cerotti Gli occhi Questo è il dissenten E supposte no Non ho messo dentro il busco E qualche mollettina Che poi adesso non sto più usando Perché comunque ho cambiato Taglio di capelli I capelli corti E perciò i miei super cerotti Guardate come sono belli Non ce n'è uno normale Cacchina kawaii Cerottini tutti speciali Suppostini effervescenti Niente allora Niente suppostini effervescenti No La mia scarica di occhi Sì che non è che faccia bene Però d'altronde Quando a me mi viene L'attacco cervicale Mal di testa Così devo prenderlo Ragazzi non so cosa dirvi Poi Ok Altra pochettina Dove ho Vabbè Questo che serve a noi E una mascherina Anzi due E basta Si sa mai Sempre verde dietro Poi la mia Acqua profumata Di The Body Ok è buonissima Qua dire Che hai comprato Non è quella di Vittoria Ah si però aspetta Che ve la faccio vedere Già che in questo video Ho preso Perché ci serve anche Mia figlia Siamo andate Lei ha preso la crema Io ho preso l'acqua profumata Mamma quanta È buona Vabbè Buone Vi piacciono anche a me queste Questa invece The Work Body Non mi ricordo mai bene Il nome di quel locale Buonanotte Fischio Tra locale Villa abbandonata Chiamo tutto In un altro volo Un maschè antica Sì Allora Chiavi del lavoro Beh Si sarà letto Lavoro a l'Avis Sì E poi Fazzoletti I soldini Vediamo Quanti ne abbiamo Ma adesso Unica Ui c'è il 20 euro Strano ma vero Non ho solo le monete Che ricca oggi Le ultime volte Cosa c'è nella mia bocca Forse c'era sempre le monete Il mio amore Anche le C'è ci sono le monete Anche la carta Stavolta E basta Qua dentro Non ho niente Di qua Non ho Niente Strano ma vero Perché io riempio sempre tutto E questa è la mia borsettina Spike Perone Vieni amore Guarda che bello Guarda la talpa Vieni Vieni a vedere Fatti vedere Dai di solito Vieni su Dai Ciao amore Oh mamma Oh mamma tua Sì amore Ditemi se non è la cosa più bella del mondo Ciao amore mio Vabbè mia Cia sta morendo di caldo Il mio papo Aiuto Sta soffrendo il caldo Va bene dai Con questo Spero di aver tenuto compagnia E ditemi anche voi Cosa avete Se avete Le stesse cose che tengo io Ciao Ciao al prossimo Ciao da spy Anche da spy Saluta Guarda il riempore Guarda Guarda papi Guarda Ciao Ciao La mamma si Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti